Campo base al lago Maulazzo Si accomodi, si accomodi Bellissimo, salutiamo a tutti e inizia l'avventura Allora abbiamo detto voi andate a fare l'acqua, noi facciamo la legna e uno prende le pietre per fare il barbecue Tenduring sui Monti Nebrodi al lago Maulazzo Ciao Grazie a tutti. Sì, ma poi dovremo tornare indietro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo alla fontana. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.